Il Parco Avventura Madonie ti aspetta per vivere insieme tante emozioni, per una sola giornata o per un soggiorno avventura. Potrai praticare attività come i percorsi acrobatici, il tiro con l'arco o l'arrampicata sportiva, noleggiare la casa sull'albero o la tenda sospesa tra gli alberi a 6 metri d'altezza, approfittare dell'area attrezzata per un picnic o pranzare al punto ristoro. Parco Avventura Madonie, a Petradia Sottana, per info 331 70 75 029 oppure info chiocciola parcoavventuramadonie.it Prenota la tua avventura!